i luoghi dell'arte scusate i macchiaioli e l'america manne questa è la famosa l'ultimo bicchetti dai macchiaioli ai divisionisti le collezioni d'arte della biblioteca reale di torino telemaco signori sapete in questi anni ne abbiamo visto parecchi non so se facciano qui in Italia delle mostre dedicate soltanto ai libri d'arte è un settore molto trascurato vuoi per vari motivi vuoi perché ha molto interessato che tutto rimanga nell'ombra purtroppo non posso parlare in questa sede perché già sono nei casini per i fatti miei alla prossima grazie